Mentre il nuovo sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi incontrerà tutti i dirigenti comunali per far capire come lavora e fare un po' il punto della situazione, ovviamente adesso l'attenzione è concentrata sulla composizione della nuova giunta comunale ed è già toto giunta, ipotesi ovviamente che si facevano già prima del ballottaggio in un caso o nell'altro. Dovrebbero essere sicuramente assessori i noi eletti consigliere Guido Liris di Forza Italia e Alessandro Piccinini di Fratelli d'Italia. Non si sa che ruolo potrà avere Carla Mannetti, ha un'esperienza da direttore generale, potrebbe fare il direttore generale dell'ente, una nuova figura ovviamente, oppure potrebbe essere anche vice sindaco. Se la Mannetti non sarà assessore, il posto d'assessore potrebbe essere rivestito da Erzilia Lancia, che replicherebbe così un'esperienza amministrativa che ha già avuto in provincia seppur per poco. Del resto Pierluigi Biondi ha sempre detto di voler dare un posto importante alle donne. Si fa strada anche l'ipotesi di dare un posto a Sabrina Di Cosimo, alla sua prima esperienza, ma bisognerà vedere come verrà composta la giunta, dunque il condizionale è sempre d'obbligo. Dovrebbe restare fuori dalla giunta Giorgio Di Matteis, mentre potrebbe entrare in giunta Luigi Deramo. Emanuele Imprudente è uno tra i papabili, però avrebbe manifestato un non grandissimo interesse per avere un posto in giunta, preferendo piuttosto lavorare per il partito e per strutturarlo ancora meglio, anche perché già si parla di regionali 2019 all'Aquila. Potrebbe essere il presidente del Consiglio Roberto Tinari, che è stato il vice di Benedetti ma all'opposizione. Ma potrebbe tornare anche Vito Colonna, che è stato presidente del Consiglio Comunale nell'epoca di tempesta. Per quanto riguarda gli assessori, ci sono anche dei nomi che circolano, assessori esterni. Per Forza Italia potrebbe essere papabile Paolo Federico, che è stato un po' il regista della campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Ovviamente andrà valutata anche la partita delle liste civiche, che avranno poco spazio in giunta, ma potrebbero averne uno più importante invece nelle varie commissioni.